Non siamo dei Rambo, vogliamo solo lavorare in sicurezza. A sostenerlo è il segretario provinciale del SULP Arezzo Davide Frondaroli che all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Arezzo alla sperimentazione del taser tra le dotazioni in possesso della Polizia Municipale risponde ad alcune considerazioni espresse da componenti dell'assise. Non accettiamo di essere definiti dei Rambo, spiega Frondaroli in riferimento alle affermazioni del consigliere 5 Stelle Michele Menchetti specialmente da chi usa questo strumento come pregiudizio ideologico senza conoscerne il funzionamento. La Polizia Locale Italiana è quotidianamente sulla strada ad affrontare tutte le situazioni di degrado e pericolo che forse è la stessa politica che ha contribuito a creare mettendo a rischio la vita degli agenti. Sono sempre più numerosi gli infortuni e le aggressioni che quotidianamente si registrano. Ricordiamo inoltre che abbiamo già un'arma da fuoco e che il taser, classificato anch'esso come arma ma non da sparo sarà utilizzato con la stessa attenzione e senso di responsabilità.